Ragazzi, ragazzi, amici ed amiche, la quarantena è veramente brutta, quindi ho deciso che stasera farò un'altra live per avvisarvi, regà, verso le 22.30. La quarantena è veramente qualcosa di noioso, quindi, regà, io di solito al sabato sono sempre in giro, sono sempre in giro con i miei amici, a mangiare fuori, discoteca, regà, sono sempre a divertirmi il sabato sera, questo sabato no, purtroppo, perché bisogna stare chiusi in casa, non bisogna uscire, regà, questo è un consiglio che do a tutti, bisogna rispettarlo, perché questo è un motivo che bisogna rispettare, visto che questo virus sta contagiando tante altre persone, quindi, regà, ascoltiamo il popolo, ascoltiamo il governo, non facciamo come quelli che escono di casa, regà, hashtag state a casa, non uscite. E niente, noi ci vediamo stasera alle 22.30, quindi, regà, fatemi sapere qui sotto nei commenti chi c'è, chi non c'è, o eccetera, eccetera, eccetera. Se potete esserci, scrivetemelo qua sotto, se non ci potete essere, regà, pace e amen. Però, regà, fatemi sapere qui sotto nei commenti se ci sarete. Comunque, la live dovrebbe partire intorno a 22.30, barra 23. Insomma, quindi, regà, stasera vi voglio forti come ieri, forti come l'altro ieri. Forza, regà. Fatemi sognare. Parliamo un po' di tutto. Ci vediamo dopo. Ciao, regà.